3 2 1 ciao a tutti ragazzi allora ciao a tutti e oggi sono tornata con un nuovo video e voglio registrarvi il video dove praticamente vi faccio vedere la mia collezione dei trucchi ovviamente parliamo di una collezione ristretta perché comunque io non ricevo trucchi dagli aziende tutte quelle che quelli che vedrete sono tutti trucchi che ho comprato di mia tasca nel tempo comunque che ho collezionato ho comprato perché lavoravo e quindi mi sono potuta permettere di acquistarli piano piano ok ovviamente non potrò farveli vedere nel dettaglio quindi sbocciare sbocciarvi palette sbocciarvi rossetti sbocciare qualunque tipo di cosa quindi vi chiedo la cortesia se siete interessati a lo swatch di palette oppure vedere nel dettaglio quindi qualcosina più nello specifico vi chiedo la cortesia di farmelo sapere o su instagram o eventualmente anche tramite commento qui sotto ok però prima di iniziare devo assolutamente ringraziarvi per come stanno andando i video perché comunque sia sono alle prime armi sono di ritorno dopo tanti anni e i video stanno andando grazie bene quindi devo assolutamente ringraziarvi però devo dire una cosa sto notando che le visualizzazioni stanno andando benissimo ma tante persone non sono iscritte quindi vi chiedo cliccate iscriviti e cliccate mi piace cliccate la campanella e supportatemi in questa mia nuova avventura perché mi farebbe tanto 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 piacere ok con questo possiamo iniziare io vi voglio far vedere un pochettino quello che è il mio mondo e nulla metto pausa e ci vediamo dall'altra parte ecco qui questa è la mia postazione makeup quella dove praticamente io diciamo ho tutti i trucchi o comunque il 90 per cento perché comunque non ho grandissime cose ne ho abbastanza ma non una cosa esagerata allora cercherò di farvi vedere nel dettaglio più o meno quello che è qui però ovviamente come vi dicevo se volete vedere più nello specifico dei swatch oppure qualcosina comunque più dedicato dovete farmi sapere poi cosa volete vedere allora partiamo da questo lato qui allora in questo cestino ho praticamente tutte le cosine che possono essere utili al momento quindi ho un questo è un fondotinta e l'infallibile della lore al 24 ore devo essere sincera non è che lo utilizzo moltissimo perché mattificante e io che ho la pelle secca devo essere sincera non non mi trovo molto molto bene con questo vabbè qui c'è un braccialetto di che questo è di banana beauty vedrete molte cose di banana beauty ma non perché c'è qualche collaborazione dietro ma semplicemente perché mi piacciono ovviamente io mi faccio le unghie col gel quindi questi non li utilizzo però ok qui c'è un temperino questa è la maschera di yellow body la maschera quella purificante qui c'è il correttore di banana l'ho appena utilizzato poi qui dentro abbiamo altre svariate cose ci sono un altro correttore di too faced c'è un questo è un eyeliner di flormar questa è la matita che ho appena utilizzato rossa di banana beauty questo è un primer di bella oggi qui c'è sempre un eyeliner di bella oggi e qui sotto invece nel frattempo cadono cose appunto cadono cose aspettate vi dicevo qui ci sono ancora matita di kiko e altra roba di flormar comunque diciamo ecco comunque queste sono una visione molto generale questa è una pinzetta e ok qui da questa parte abbiamo la macchina la crema che ho usato attualmente è una crema di lab care cosmetics che è ottima questa è una levigante con micro sferattive anti age da 32 anni non fa male dai lanti age qui è rimasto ok qui ho qualche pennellino occhi che posso utilizzare magari nel momento in cui voglio mettere un ombretto veloce così ho qualche pennellino poi ovviamente ho tutti i pennelli da parte puliti dentro un porta pennelli questo è un ricordo di mia nonna qui dietro ci sono tutti i miei deodoranti questo qui è felce azzurra da il mio preferito che è il breeze e la mia lacca procedendo da questa parte qui ho tutti i miei rossetti sì tutti i banana beauty anche qui sempre perché io sono innamorata di questo brand ve ne faccio vedere qualcuno attualmente oggi porto il questo qui questo si chiama casting star ed è un rosso abbastanza intenso ma come potete vedere se mi sposto un pochettino questi sono due vabbè deodoranti questo è il volume up sempre di banana beauty e mascara altri rossetti di tutti i colori di tutti i tipi tutte le colorazioni video ci dovrebbe essere quelli nude sì infatti e qui ne ho quattro che sono della kiko sempre più che rossetti sono tinte labbra se riesco a rimetterle a posto ok qui ci sono due fondotinta della kiko questo è quello che utilizzavo diciamo di più prima e questo invece è nuovo liquidi qui the skin lo portavo ieri nel video che ho fatto ieri qui c'è una una collana che mi ha regalato la mia amica e l'altra collana anche addirittura risale mi sa penso alla comunione o alla cresima qui davanti invece troviamo nel frattempo mi rimetto seduta diciamo un porta oggetti preso su amazon non fate caso alle cose dietro sono le cose dell'asilo di mio figlio questo può anche ruotare come vedete all'interno troviamo il fondotinta utilizzato oggi di flormar buono mai utilizzato mi piace per il momento almeno prima impressione questo è un una copia una copia buona comunque di devo dire l'ho presa attività usi li fanno queste copie dei profumi di one million del profumo buono qui abbiamo poi la crema questo è una polvere a carbonattivo l'acti coco per i denti per la pulizia poi c'è sieri per il viso acido ialuronico bava di lumaca tutti i miei balsami labbra qui c'è qualche mollettina per i capelli questi sono dei pigmenti della kiko che oramai non utilizzo più perché veramente sennò qua non lo so anche se le polveri le puoi utilizzare un po di più è però dopo una certo un certo tempo è meglio evitare di utilizzarle questi sono due smalti questa è la copia di quello che avete visto qui e questo invece questo colore qui è identico proprio qui ho una sfilza di rossetti che utilizzo tutti i giorni abbiamo mac kiko questi sono un kit mix mesauda questo è debora milano e quindi ci sono altri correttori di essence è sempre un altro questo è flormar questa è la mia spazzola di 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 attengo il teaser e dire ci sono alcuni pennelli un po grandi che dentro al porta pennelli non mi entrano qui di fianco ci sono le mie spugnette questa è quella che ho utilizzato adesso l'ho riappoggiata lì ma non dovrebbe stare lì lì ci sono due acque micellari questa è quella classica dierni e questa è quella nuova che ha sponsorizzato anche clio makeup buona e qui dentro invece tengo tutti i miei mascara sono tutti aperti sì e no nel senso diciamo che sono quelli che utilizzo quindi diciamo di sì alcuni però non è che li utilizzo tantissimo devo essere sincera sono sempre quelli che utilizzo principalmente quindi e vabbè comunque abbiamo pupa rimel london questo è bella oggi ve ne faccio vedere qualcuno perché se non finiamo più è questo è sempre rimel qui ci abbiamo essence questi sono kiko no aspetta aspettate allora questo c'è il dorato questo dorato e kiko questo questo qua con wikon qui sotto ci sono poi c'è flormar e questo è di mesauda si mesauda e niente poi ci sono questo è un gloss di ionique e vabbè altre cosine che vabbè ripeto non posso farvi vedere tutto perché se no non finiamo più non staremo neanche nei dieci minuti penso che verrà questo leggermente più lungo il video oggi scusatemi allora poi c'è questo cassettino qui dove tengo altri rossetti anche qui sempre kiko rimel london mesauda maggiormente kiko sì essence c'è qualcosa di uda e banana beauty qui ci sono c'è un primer è un un questo è un illuminante che se volete vi faccio vedere in azione poi un video dove magari ci trucchiamo insieme da quest'altra parte c'è l'altro cassettino scusate devo sempre spostare qui è tutto preso a a misura questa è la cipra di essence questa è una terra sotto ci sono delle palettine un'altra cipria un'altra palettina un blush rossetto e questi sono dei correttori correttivi ok e per quanto riguarda questa parte sopra abbiamo finito qui c'è invece il reparto se sentite aprire la porta è il gatto che apre le porte ve lo presenterò anzi no l'avete visto ieri è ciuffetto il gatto nero che avete visto ieri nel video qui abbiamo tutto il reparto palette nel cassettino questa è di essence naked la reloaded questa è tutta sui toni chiari qui c'è un gioiellino un braccialetto mesauda sono queste sono le palette una matt una brillante di quando ho fatto la scuola qui ci sono due matitoni qui sono qualche matita da parte la naked questa ultraviolet è bellissima vi ci devo fare un video su questa qui ci sono svariate matitine occhi labbra sopracciglia campioncini vari the bad get bang roller lashes un altro volume mascara quello per le sopracciglia l'eyeliner di banana beauty un altro mascara sempre di banana beauty e questo penso che sia quello delle sopracciglia non ve lo so dire queste sono sempre palette del quanto ho fatto la scuola ok poi ne ho un'altra di banana beauty questa è quella che ho usato oggi per gli occhi anche se una palette viso è molto bella perché ci sono c'è praticamente terra blush illuminante questo è un regalo che mi hanno fatto al compleanno è di farà dei bellissimi colori molto vari poi c'è la naked it questa l'ho utilizzata anche su questa vi vorrei fare un video la pumpkin e poi c'è la vibes questa ve la posso aprire perché è l'unica che faccio fare non faccio fatica ad aprirla scusate il riflesso e niente per il momento per il video di oggi è tutto aspettate che torno 321 e torno ed eccoci qua allora come vi ho fatto vedere questa è la mia piccola collezione di makeup vi chiedo scusa se non vi ho fatto sbocciato tutto quello che che avete visto ho cercato di farvi vedere anche più o meno quello che ho utilizzato oggi per il makeup il mio makeup oggi è molto semplice c'è un po di matita un po di ombretto un po di mascare un rossetto quindi è una cosa molto molto semplice niente io cerco di concludere qui il video perché è già venuto più lungo del solito vi ringrazio per aver guardato il video vi lascio come sempre qui i miei contatti instagram e facebook e vi invito ancora di nuovo a lasciare un like se vi è piaciuto questo video ad iscrivervi a cliccare sulla campanellina per avere le notifiche ogni volta che esce un mio nuovo video vi ringrazio vi saluto vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima video ciao